E' accaduto ieri dinanzi ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Bari, imputati con le accuse di usura e distorsione il 47enne Antonio Cardinale e il 38enne Francesco Gasparro, che poi è tornato in libertà. Altri nove imputati accusati degli stessi reati, tra i quali i pregiudicati baresi Eugenio Palermiti e suo figlio Giovanni e Vito Parisi, cugino del boss di Iapigia Savinuccio, sono a processo con rito abbreviato. I fatti contestati si riferiscono agli anni 2002-2010 e riguardano episodi di usura e distorsione ai danni di alcuni imprenditori locali. Ieri in aula una delle vittime, un imprenditore di Trigiano, testimone di giustizia, ha raccontato in videoconferenza la burrasca vissuta in quegli anni, confermando le accuse nei confronti di tutti, compreso il boss Savino Parisi, ma negando quella nei confronti di Gasparro, che ha assistito all'udienza in aula dalla cella. Non sono mai stato costretto ad assumerlo come guardiano in uno dei miei cantieri, ha detto l'imprenditore, rispondendo alle domande del pubblico ministero antimafia Patrizia Rautis, anche se sapevo che era amico di delinquenti. Così il difensore dell'imputato, l'avvocato Gaetano Sassanelli, ha chiesto e ottenuto dal tribunale la revoca della misura cautelare. Nell'ambito della stessa indagine è stato già condannato, con rito abbreviato a quattro anni e otto mesi di reclusione, il capoclan Savinuccio Parisi. Nel processo sono contestati altri episodi, verificatisi nel quartiere Iapigia di Bari e a Trigiano, quando i clan operanti in questi territori avrebbero deciso di investire il denaro proveniente dal traffico di droga, prestando denaro a usura a imprenditori edili in difficoltà.